Le scene di sesso Le scene di sesso Di sicuro del parere opposto sono due delle attrici che più hanno animato ultimamente il panorama del grande schermo internazionale, protagoniste di una scena saffica che a quanto pare ha piacevolmente sorpreso entrambe. Mi è piaciuto fare sesso con Emma Stone ha commentato Olivia Colman in conferenza stampa a proposito del set di tè favorite di Jorgo Lantimos, in concorso a Venezia 75. Che la vista protagonista insieme a Emma Stone. Anche a me è piaciuto farlo con te le ha fatto Ecolastone.un film che ha colpito molto anche la critica e che vede susseguirsi intrighi, colpi bassi, gelosie nella corte della regina Anna. Aggiungete un triangolo amoroso tra donne, ed è ecco servito te favorite di Jorgo Lantimos, in concorso oggi a Venezia 75, e ha colto con grandi applausi dalla stampa nelle proiezioni riservate e all'incontro con il cast. Quasi come a Hollywood. C'è tanta rivalità certamente, ma lo spirito competitivo non è solo nel cinema, accade in tutti i settori dice Emma Stone, una delle tre magnifiche protagoniste, con Olivia Colman e Rachel Weisz, assente per imminente maternità, che mettono subito al secondo giorno di festival l'ipoteca sulla Coppa Volpi migliore interpretazione femminile. Come racconta l'Huffington Post, l'Antimos, e l'Obsteg, il Cervo Sacro, racconta la sfida, anche di seduzione omosessuale tra due dam, Abigail Masham, Stone, e Sarah Korkil, Weisz, per diventare unica, potente favorita della regina Anna Stuart, 1665-1714, a capo del regno nel Dinglet. Inghilterra, depressa, instabile, bambina. Gelosie violente e manovre politiche, capricci che cambiarono vite di milioni di persone per la guerra Inghilterra-Francia che dominò tutto quel periodo storico. Inghilterra-Francia che dominò tutto quel periodo storico, capricci che dominò tutto quel periodo storico.